Un amante della vita. Così il sindaco di Mussolente, Cristiano Montagnier, che ne è stato per anni animatore in parrocchia, ricorda Federico Bonaldi, il muratore di 34 anni, residente a Mussolente, che ha perso la vita lunedì mentre in sella alla sua moto percorreva via Generale Giardino a Semonzo. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua moto, forse distratto da un problema al cavalletto o ad una pedaliera, finendo per schiantarsi contro un albero all'altezza del tredicesimo tornante che porta a cima grappa. A dare l'allarme lunedì pomeriggio sono stati gli amici che erano con lui e che non vedendolo più arrivare, sono tornati lungo la strada percorsa dal gruppo, fino a rinvenire il 34enne a terra, primo di sensi. Inutile a ogni intervento dei sanitari del suo MD Crespano, allora arriva Bonaldi, era già senza vita. Federico Bonaldi, ultimo di quattro fratelli, era molto conosciuto a Mussolente, dove viveva assieme ai genitori.